Salve! Adesso vediamo la piccola differenza esistente tra la diteggiatura della nota RE4 rispetto alla nota LA5. Consiste in questo. Per suonare la nota RE4 manteniamo il pollice a tappare il foro posto sul dorso del frarinetto senza muovere, senza aprire la leva del portavoce. E sulla parte superiore del frarinetto, il pezzo superiore, tappiamo i primi due fori con l'indice in il medio, va bene, ed emettiamo la nota RE4. Attenzione! Se adesso con il pollice, invece di tappare soltanto questo foro, andiamo ad aprire la leva del portavoce, questa sarà la diteggiatura necessaria per salire di 20 posizioni, in senso ascendente, di semitono in semitono, fino ad arrivare alla nota LA di quinta ottava.